Da oggi gli studenti abruzzesi sono tornati in classe, lezioni in presenza, ma nelle superiori, in seconda e terza media, ancora per il 50% anche in didattica a distanza, ma per saperne di più e vedere la situazione in un liceo di Pescara ci colleghiamo in diretta con Marina Moretti. Buon pomeriggio Marina, ti vedo in compagnia del dirigente del liceo Galileo Galilei di Pescara. A te la linea. Sì, buon pomeriggio a te Gigliola. Il progetto era di far suonare la campanella, le due in punto e far uscire i ragazzi dalla scuola, cosa che è avvenuta purtroppo non sotto la nostra telecamera perché ovviamente la cronaca ha un po' preso il sopravvento, ma vi assicuro che i ragazzi sono appena usciti, quei pochi ragazzi che potevano venire a scuola, esattamente la metà. A partire da oggi uno però lo abbiamo acciuffato e lui si chiama Francesco e fra poco ci dirà le impressioni. Intanto dico che oggi in tutto Abruzzo sono circa 180 mila gli studenti tornati nelle scuole di ogni ordine grado, sappiamo però che diversamente dalla prima media, la seconda della terza media e le scuole superiori entrano a scuola al 50% e l'altro 50% è in DAD e poi insomma ci si alterna. Una formula che più o meno è la stessa che era già stata sperimentata. Io sono al liceo scientifico Galilei, come hai detto tu, a Pescara con il preside, io lo chiamo ancora preside, permettetemi, il professor Carlo Cappello che ci dice com'è andata questo primo giorno. È andato tutto bene, eravamo pronti al rientro, diciamo che la struttura del rientro era quella di gennaio quindi abbiamo utilizzato lo scaglionamento in ingresso, abbiamo utilizzato la formula del 50%, distanziamento agli ingressi e nelle aule con misurazione della temperatura ai quattro varchi. Quindi diciamo che si è svolto tutto regolarmente, siamo soddisfatti. Le misure ci sono? Posso fare una domanda personale. Lei è contento di rivedere i ragazzi a scuola, però dal cuore ve lo dico. I ragazzi sono il cuore della scuola, quindi se non c'è l'anima la scuola è diversa, quindi con loro è tutta un'altra cosa. Chiaramente sì, siamo molto contenti di averli qui. Devo dire che la città oggi si presentava già un po' diversamente perché io sono arrivata qui più o meno alla chiusura delle scuole, si vedono mamme, bambini con lo zaino, tutto colorato, è un bel effetto devo dire. Magari in altre occasioni proprio quelle uscite dalla scuola creano, come creano, anche problemi al traffico, bisogna fermarsi se si è in macchina per far giustamente attraversare la strada ai bambini, però la cartolina che viene davanti agli occhi oggi invece ha un che di consolante. Francesco, sei fra quelli che non volevano tornare a scuola o no? È chiaro che ci sono sia pro che contro in didattica a distanza e in presenza. È ovvio che ad esempio in didattica a distanza la sveglia non suona alle 7, suona alle 8, quindi stai pronto col computer e fai lezione, però l'apprendimento autentico secondo me passa per la scuola in presenza, poi sia nella classe che nei luoghi comunque circostanti, cioè magari una comunicazione con i ragazzi che non può avvenire in chat, con quelle emozioni che non passano in chat, ce l'abbiamo nel cortile insomma. Certo, tra l'altro tu mi dicevi che sei anche uno sportivo, noi lo abbiamo conosciuto, ma l'ho saputo adesso in occasione di una puntata del nostro programma Il Lato Positivo dedicata al parkour, sei un po' fermo come tutti quelli che possono, che fanno sport, che prevedono gruppo, insomma sport non individuali, però ecco c'è anche questo, la scuola manca non solo per le lezioni, ma anche per le attività collaterali, per la socializzazione, le attività sportive, teatrali, musicali. Sì, sì, è chiaro, con questa situazione si ferma tutto, anche le attività che ad esempio facevamo gli anni passati, ad esempio quelle per i crediti formativi, quindi tutte le attività di formazione pomeridiane non le possiamo fare più, magari qualcosa è stato organizzato comunque nel pomeriggio, ma non è la stessa cosa. Tu tra l'altro hai l'esame di maturità, perché sei maggiorenne, per questo che ti abbiamo scelto, una maturità alla quale bisogna prepararsi appunto con sistemi diversi al giorno d'oggi, insomma. Sì, adesso è un'incognita comunque, anche se l'anno scorso è stata sperimentata una forma simile a quella che avremo quest'anno. Che dire, quello che... Non lo posso dire, però ti dico buon qualcosa. Siamo che sia un'opportunità per farlo meglio. Certo, Gigliola, se hai domande? No, Marina, grazie a te, al professor Cappello, al studente del liceo scientifico Galilei, con Marina Moretti torneremo a collegarci anche nella prossima edizione del Tg8, con lei c'è l'operatore Andrea Berardinelli, dicevo torneremo a collegarci per conoscere i dati aggiornati sui contagi in Abruzzo.